Salve a tutti, salve a tutti, tanto ovviamente vi ringrazio per la consueta attenzione che ritenete di riservarmi, perché credo che sia accaduta anche oggi una cosa un po' singolare su cui vale la pena richiamare l'attenzione di tutti coloro che hanno a cuore la verità, la comprensione, la trasparenza, l'effettiva conoscenza non edulcorata o filtrata da qualcuno che evidentemente non è troppo contento che le cose in giro si sappiano e vi volevo parlare di un articolo apparso oggi sul Corriere della Sera che è un po' strano, è un po' strano non tanto, il Corriere della Sera è evidentemente un giornale importantissimo su cui credo che non possiamo tanto il cappello per carità, però c'è una cosa un po' strana, ve lo volevo far vedere. Voi sapete, piccola premessa, l'altro giorno io ho fatto un video che grazie a voi e vi chiedo davvero una mano anche su questo, di diffondere, perché tutte queste cose si leggono sulla stampa internazionale ma non si vengono a leggere, nessuno le dice sulla stampa italiana, non si sa perché, ma all'estero invece le dicono. E guardate qua, qui è uscito un articolo nei giorni scorsi che vi faccio vedere, su questa rivista, è un articolo diverso da quello dell'altra volta, in cui si dice che è stato censurato un rapporto sul sviluppo della pandemia in Italia perché avrebbe delle critiche nei confronti del governo. Voi direte è quello dell'altra volta, non è un altro perché come vi avevo detto sta girando un po' dappertutto questa accusa che viene rivolta al governo italiano di nascondere in buona sostanza insieme all'OMS alcune date e informazioni. E oggi sul Corriere della Sera di questo articolo che vi ho appena fatto vedere come di tutti gli altri decine, 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 decine non se ne parla in Italia se non qualche rara eccezione che abbiamo già citato. Allora cosa succede? Oggi esce un articolo in cui misteriosamente, vedete, il Corriere della Sera dà sostanzialmente la parola al dottor Ragneri Guerra, con cui Ragneri Guerra, vedete qua, dice Ragneri Guerra mai chiesto di ritirare il documento, visto? Ragneri Guerra dice mai chiesto, vedete, di ritirare il documento. Corriere della Sera di oggi, se andate ne dico lo trovate, non è una fake news, lo trovate tutti. Bene. Senza alcun contraddittorio viene chiesto a Ragneri Guerra, ma scusi, tra le accuse che nessuno riprende, cioè la cosa incredibile è che questo articolo riprende delle accuse pubblicate all'estero, ma il Corriere non le ha più di tanto riprese. E quindi dicono, ma scusi il signor Ragneri Guerra, ma tra le accuse, vedete, c'è qui, tra le accuse, quella di aver occultato il fatto che il piano pandemico del 2006 non era stato aggiornato. E Ragneri Guerra dice, falso, innanzitutto era un piano per le pandemie influenzali, che non aveva bisogno di aggiornamenti. E dopo su questo diremo una roba, perché è gravissimo che questo signore dica una cosa simile, o è un incompetente o è in malaffede. E poi, come si fa a fare un virus per un piano sconosciuto? Semplicemente volevo dichiarare che quel piano era vigente. Bene. bene. Ok? Quindi lui dice che non è vero, lui dice, testuale, l'avete visto, non è vero che lui ha operato per rimuovere il virus, per rimuovere il rapporto segreto. Ok? Volevo dirvi una cosa a proposito del rapporto segreto. Visto che tutti parlano di questo rapporto segreto, è questo. Ci si è rotti le scatole. Ci si è rotti le scatole e ve lo, chiunque lo voglio, ve lo faccio vedere. Perché visto che tutti dicono che bisogna essere trasparenti, ma qui nessuno lo è, ecco il rapporto segreto che nessuno ha le palle di pubblicare, evidentemente anche altrove. Questo rapporto segreto, lo vedete, dice che il piano pandemico italiano è stato solo riconfermato, riconfermato nel 2017, non è mai stato aggiornato. E quindi, dice, la risposta della sanità italiana fu caotica, creativa e confusa. Questo è il documento. Tutti ne parlano, ma nessuno lo vuole citare. Eccolo qua. Questo è il documento. Bene. Lo facciamo rivedere. Unprecedente challenge Italy first response to Covid-19. Tutti lo citano. All'estero è pubblicato. Vedete? All'estero io clicco qua. Vedete? Io vado su un sito estero e trac, c'è. In Italia no. Bene, è qui. Chi lo vuole? Io lo faccio vedere. Perché mi sono rotto le scatole del fatto che gli italiani abbiano subito l'incompetenza di questo governo e nessuno voglia dire la verità. Torniamo all'articolo. L'articolo dice, tolto alcuni giornali che dobbiamo riconoscere, dice, ma qualcuno l'accusa di aver ritirato il piano. E il dottor Ranieri Guerra dice, assolutamente no. Bene. Questa è la prima mail che adesso vi mostro. Perché? Visto che il dottor Ranieri Guerra dice che lui non ha fatto niente. Vedete? Ranieri. Ranieri. Una mail in cui lui dice, guardate, non fatemi casino ed eliminate il riferimento. Dovete cambiare il piano nazionale di preparazione del posto ministero 2006 e riportare quanto è disponibile al sito MinSalute. Ultimo aggiornamento dicembre 2016. Quindi, buona sostanza, cambiare la data. Cambiare il riferimento alla data, non la data. Non fatemi casino su questo ed eliminate il riferimento. Stasera andiamo sugli denti di una introsmissione. Ti avevo pregato di farmi rileggere, prima della stampa, accidente, adesso blocco tutto, consumia, fammi avere la versione rivista, appena poi così non può uscire. Per favore, niente. A me se mi rileggere sotto, cazzate. Bene. Perché questo? Perché questo documento dice che in buona sostanza l'Italia non era preparata. Ma voi direte, ma scusami, Galeasso, Ranieri Guerra è il direttore europeo dell'OMS, lui ha solo l'OMS, ha solo motivo che si sappia la verità, che ci sia trasparenza, che ci sia conoscenza, che la gente sappia che cosa succede. Ah sì? Guardate quest'altra mail. Guardate qua. Altra mail. l'Amanda Ranieri Guerra, assistente del direttore generale della World Health Organization, che è l'OMS. E dice, a proposito, qui aveva, vi ricordate, qui aveva detto che il lavoro aveva delle cose scritte male, fatte male, che quindi andava ritirato perché diceva che aveva degli errori. Visto? Bene. Guardate qualcosa dice. Da qui. Spero che non ci siano dubbi. È una mail su un lavoro sicuramente pregevole, dal punto di vista del contenuto. Quindi non dice che contiene delle cavolate, dice che è pregevole. Ranieri Guerra. Però poi dopo dice, non credo che ti renda pienamente conto di quello che sta succedendo e di quali siano le questioni politiche che si stanno accavallando in questo momento. OMS è stato schiaffo pesantissimo e la manovra è orchestrata in massimi livelli, comprendendo anche effetti di maggioranza che stanno pesantemente speculando su quanto in corso. Uno degli attu di speranza, leggete qua, uno degli attu di speranza è stato sempre quello di potersi riferire a OMS come consapevole foglia. Qui c'è un errore di fico per certe decisioni impopolari criticate da vari soggetti. Attenzione, non è banale. Sostanzialmente l'assistente direttore generale ci dice che OMS ha fatto da paravento alle decisioni impopolari che il Ministero assumeva. consapevolmente, lo dice lui, lo dice lui, come consapevole foglia di fico, figlia, evidentemente è un refuso per certe decisioni impopolari. Questa è stata materia di discussione e di accordo con Tedros. Questa è stata materia di discussione e di accordo con Tedros anche e chi è Tedros? Vediamo chi è Tedros. Andiamo su Google, digitiamo, oh, appare già un nome. Ma chi può essere questo Tedros? Tedros Ghebreyesus è il direttore generale del Ministero della Sanità. Quindi qui si dice che in accordo con Tedros Ghebreyesus, l'OMS si è prestata a fare da foglia di fico, lo dice questa mail dell'assistente direttore generale Ranieri Guerra, per coprire decisioni impopolari assunte da Speranza. 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 Vedete? Poi, voi dite, ah cavolo, ho preso. No, peggio, perché dice anche, vedete, ci sono anche attacchi a D'Alema, a Speranza. Scusi, dottor Ranieri Guerra, ma a noi che cosa ci interessa se Speranza e D'Alema vengono attaccati nel mentre che la gente è nei guai fino al collo per colpa di un branco di incapaci? Cioè lei si preoccupa di D'Alema e Speranza? Lei si preoccupa di D'Alema e Speranza? Andiamo avanti. Se anche l'OMS si mette in veste critica non concordata, oh ragazzi, non concordata con la sensibilità politica del ministro, con la sensibilità politica di ministro, non credo che facciamo un buon servizio al paese. Scusi, ma è lei che decide qual è il buon servizio al paese? Scusi, dottor Guerra, io lo dico da cittadino italiano, non do parlamentare di Fratelli d'Italia. Non attaccare D'Alema e Speranza o non attaccare il governo perché OMS potrebbe, non è un buon servizio al paese? Ma sa qual è il buon servizio al paese? Il buon servizio al paese è servire le istituzioni rispondendo al popolo che è sovrano e questo non lo dico io, lo dice l'articolo 1 della Costituzione, l'Italia è una repubblica fondata sul lavoro e la sovranità appartiene al popolo. Quando ci date dei sovranissi, spregiativamente, ricordatevi l'articolo 1 della Costituzione, ma andiamo avanti perché non è tutto. Ricordati, questo è fantastico, ricordati che hanno appena dato 10 milioni di contributo sulla fiducia in seguito a riconoscenza per quanto fatto sinora dopo 6 anni di 0? Cioè, ragazzi, ma leggete anche voi, ricordate che hanno appena dato 10 milioni di contributo volontario sulla fiducia e come segno di riconoscenza per quanto fatto finora dopo 6 anni di 0? Cioè, abbiamo capito bene? Cioè, sostanzialmente si dice che l'OMS ha fatto da foglia di fico, in accordo con Speranza, hanno coperto le decisioni impopolari, questo documento segreto, che però io mi sono rotto le scatole, è qua, vedete, qua, questo, che è sulla stampa internazionale pubblicato appertutto, non deve uscire perché ci dicono l'Italia ha dato 10 milioni di euro. Cioè, per la collaborazione? Quale collaborazione? Ministro, quale collaborazione? Lasciamo stare Radini Guerra, che ha scritto la mail. Io voglio sapere, lei ha dato, e il governo ha dato, 10 milioni di euro in soldi nostri all'OMS per la collaborazione? Qual è la collaborazione? Quella della foglia di fico? È questa la collaborazione? La collaborazione è quella di avere... è questa? Dopo, e voi dite, ah no, li abbiamo sempre dati? No, perché lui dice, ed è vero, l'abbiamo verificato, che per 6 anni l'Italia non ha dato niente. 10 milioni di euro nostri? Perché cosa? Perché cosa? Qual è collaborazione con l'OMS? Quella di aiutare chi ha bisogno? Quella di aiutare la sanità nel mondo? Quella di fare del bene? O è una collaborazione fatta per qualcos'altro, come dice la mail? Perché la mail dice, uno degli attu di speranza è stato sempre potersi riferire a OMS come consapevole foglia di fico per certe decisioni popolari criticate da vari soggetti? Questa è stata materia di discussione di accordo con Tedros, Tedros Ghebreyesus, direttore generale dell'OMS, anche attraverso chi ti scrive, Ranieri Guerra, assistente direttore generale dell'Organizzazione mondiale della sanità, non ti sarà sfuggito il dibattito politico. Sono sotto attacco D'Alema e Speranza. D'Alema e Speranza. Cioè tu in piena pandemia ti preoccupi di D'Alema? Di D'Alema? Se anche OMS si mette in veste critica non concordata con la sensibilità politica del Ministero? Non credo che facciamo un buon servizio al Paese? Ricordati che hanno appena dato 10 milioni di contributo volontario sulla fiducia e come segno di riconoscenza per quanto ha fatto signora dopo 6 anni di 0? A casa mia questo ha un nome. Se io ti do dei soldi per riconoscenza, soldi nostri, ha un nome. Ha un nome. E adesso però ci si ha rotti le scatole. Perché quando tu vieni a dirmi sul Corriere della Sera di oggi scambio di accuse, sospetti, doleri eccetera eccetera, Ranieri, mai chiesti di ritirare il documento, in quest'altra mail si dice non fate cazzate, per favore niente cazzate, il documento così va bloccato, non esce, viene ritirato, la stampa di tutto il mondo ne sta parlando, la stampa è uno dei tanti articoli e in Italia fate uscire un'intervista praticamente senza alcun tradittorio in cui questo soggetto che fa questa mail non deve rispondere niente? Allora Ministro, noi gliel'abbiamo già chiesto e abbiamo fatto decine di interrogazioni parlamentari a cui lei non si è neanche degnato di rispondere, abbiamo fatto ricorsi al TAR che verranno riscusse la prossima settimana, abbiamo fatto accessi agli atti, abbiamo fatto di tutto, è trasparenza questo? Chiedete collaborazione ma ci niscondete i documenti, lei deve venire a riferire subito di questa roba qua, perché gli italiani sono stanchi di questa omertà, sono stanchi di questa totale assenza di trasparenza, io ci ho messo la faccia, faccio vedere i documenti anche segreti che voi non volete vengano voi, il dottor Ranieri Guerra a quel che pare, a quel se quello che scrive, non un tizio qualsiasi, ma l'assistente, direttore generale dell'OMS Ranieri Guerra su quello che mi ha detto sinora è vero o no? Perché l'Italia, e anche qui mi assumo la responsabilità di quel che dico, ha pagato un prezzo enorme evidentemente per responsabilità di qualcuno, chi sbaglia paga. Una richiesta ragazzi, non vedrete articoli, non vedrete siti, non vedrete TG, datemi una mano, datemi una mano a diffondere queste notizie, documenti tutti, non vi preoccupate, mi becco io, guardate, se ci sono querelli, tutto quel che, non ne frega niente, perché abbiamo ragione, abbiamo tutta la verità dalla nostra parte, vi chiedo una mano a far sapere tutto quello che possiamo far sapere su quello che sta succedendo in Italia, parlo di Polonia e Ungheria, altro che lo Stato di diritto, vi chiedo di darmi una mano a diffondere tutto ciò, grazie.